Registi e alcuni attori di Redland, Rosso Istria, film sulla vicenda degli esuli istriani a Lido di Venezia. Nello spazio della Regione Veneto alla mostra del cinema, la presentazione della pellicola avrà la prima mondiale a Roma il 6 novembre. Racconta nel clima di guerra del 1943 la vicenda di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all'Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani Titini. Tra gli interpreti del film Franco Nero, Geraldine Chaplin, Sandra Ceccarelli, regia Maximiliano Ernando Bruno. Raccontare io per la prima volta al cinema questa vicenda così drammatica, per troppo tempo dimenticata da tutti, era una sfida troppo importante per dire di no. La giovane Norma nel film è l'attrice Selene Gandini. Ripercorrere anche una storia della mia famiglia, mia nonna è scappata dalle foibe, e quindi riuscire in qualche modo a dar voce anche ai racconti che da bambina sentivo. La veneziana Monica Garavello interpreta la cugina di Norma Cossetto. Una possibilità anche per le nuove generazioni di conoscere dei pezzi di storia al di là dei libri scolastici. E l'assessore regionale Veneto alla scuola Elena Donazzan, che ha partecipato all'incontro al Lido, intende promuovere la diffusione del film tra gli studenti. La pellicola uscirà nelle sale il 10 novembre.